Odio i vecchi. Sono tanti, sono ovunque e mettono sempre il becco nelle nostre faccende. Hanno molti più privilegi di noi. Parlano di quanto si divertivano ai loro tempi e non ci raccontano mai le questioni importanti, anche di questa città, Savona. Eravamo comunque giovani, ingenui, estremamente spontanei e un giorno ci svegliamo. E vediamo un bagliore azzurino accecante che proprio illuminò a giorno e questo scoppio. Mi è rimasta addosso questa sensazione di pericolo incombente. A un certo punto il clima in città si era fatto molto elettrico. E la nostra solidarietà alle vittime della barbara aggressione basista. A un certo punto il clima in città si era fatto molto elettrico.